All'indomani del voto amministrativo a Manfredonia incontriamo il coordinatore provinciale dell'Unione di Centro, Francesco D'Innocenzio. Allora, l'analisi di questa tornata elettorale che si è conclusa con la vittoria del sindaco Rotice al turno di ballottaggio. Allora, innanzitutto è il mio dovere di ringraziare tutti i candidati dell'Udc, tutti e 24 candidati qui. Quindi stasera abbiamo una parte, l'analisi politica è fatta, io sono contentissimo di come sia andata, perché l'Udc non esistiva, non c'era nulla, c'erano polveri. Chi prima di me ha gestito a livello familiare come un'azienda ha lasciato solo polveri. Oggi noi siamo rinati, stiamo rinascendo e a fianco di Rotice, perché secondo me abbiamo fatto la giusta scelta Rotice, Gianni, come sindaco e come promossore quasi per il futuro di Manfredonia. Per quanto concerne invece i dati percentuali che l'Udc ha ricevuto, qualcuno ha detto che sono stati molto bassi rispetto alle aspettative. Lei che cosa dice? Sinceramente, se dovessi fare un'analisi, forse non so chi sia questo qualcuno, o dove si è cimentato questo qualcuno qua. Noi abbiamo preso Cerignola, non eravamo nulla, abbiamo preso il 2%, abbiamo superato sia Forza Italia e sia il Movimento 5 Stelle. Qualcuno che ha reclamato che aveva il 20%, oggi non ce l'ha neanche più il 20%. Su Manfredonia siamo a 1,5,6%, qualcuno che ha lo stesso reclamato il 20% oggi non ce l'ha, ha avuto 30-40 volte più di noi. Quindi io non penso che a San Nicandro, dove avevamo il 7, siamo arrivati a 14%, quindi non penso che l'Udc sia andata malissimo o male, anzi sia andata benissimo l'Udc. Poi se qualcuno si cimenta a fare delle interviste e dire che magari qualcuno che ha composto la lista e magari i candidati sono usciti da zero voto, bisogna dimettersi, evidentemente ha preso una cantonata perché fare la lista si fanno in un gruppo di persone. Evidentemente questo signore qui che prima diceva di far parte del gruppo non c'è mai esistito nel gruppo, quindi ha lasciato solo il nostro commissario e il nostro commissario ha fatto una lista, a mio avviso, di persone per bene e per me la lista è andata benissimo. C'è un'altra cosa, che la lista qualcuno ha cercato di farci qualche giochetto, di toglierci i candidati, anzi ha cercato, ha fatto questa cosa qui. Solo che noi siamo stati un po' più intelligenti che siamo corsi subito ai ripari per far sì che la cosa venisse un po' mascherata salvando la sua faccia di questa persona qui che oggi si è permessa di parlare in questa maniera. Non volevo fare nome e cognomi? No, non c'è bisogno di fare nome, gli faccio pubblicità, quindi non bisogna fare pubblicità. Ormai è finito, penso che abbia capito che è finito. Siamo noi che siamo andati avanti, ho nominato il nuovo commissario che è Michele Ricucci, c'è qui anche la responsabile provinciale della Welfare, c'è anche qui il responsabile provinciale del Tesseramento, stiamo riorganizzando il partito su Manfredonia, quindi ci sono i nuovi dirigenti che verranno nominati in questa settimana. Noi stiamo tranquilli, continuiamo a fare il lavoro che abbiamo fatto, il programma è quello che ci siamo detti di fare, quello di far crescere l'Udc. Perfetto. Alla luce di questo risultato, adesso cosa vi aspettate dalla Giunta Zotice? L'ingresso di qualcuno di voi o non so cosa? Ma noi innanzitutto, io ho detto al Sindaco che noi siamo al suo fianco, saremo leali per tutta la legislatura, sia la prima sia la seconda legislatura, perché Rotici farà anche la seconda legislatura. Siamo al suo fianco, il partito a livello nazionale, Lorenzo Cesa, ha comunicato a Rotici la sua vicinanza, per qualsiasi cosa, quindi siamo disponibili a Rotici. Se ci vuole in Giunta o ci vuole al suo fianco, noi siamo pronti al suo fianco. Ed ora sentiamo anche due dei candidati che hanno preso parte a questa competizione elettorale. Gianluca Stoppiello, secondo lei come è andata? È soddisfatto di come il partito si è comportato o si aspettava qualcosa di più? Mi aspettavo semplicemente quello che abbiamo fatto, cioè un bel percorso fatto in poco tempo, ma in maniera veramente intensa. Un percorso di arricchimento personale, di arricchimento di gruppo, con tante prospettive per il futuro. È stata la mia prima esperienza in campagna elettorale e sinceramente mi ritengo più che soddisfatto del percorso fatto, sia con il partito che con la coalizione. Come dicevo, è stato un percorso che ci sta portando poi a una proiezione futura di crescita e oggi siamo qui per programmare e progettare il futuro. Katia Malasco. Allora, anche per me intanto è stata un'esperienza davvero molto bella. Mi ha arricchito, mi ha dato la possibilità di conoscere tanta altra gente e soprattutto capire bene quelle che erano le problematiche di Manfredonia, perché inizialmente le si vedeva un po' più in modo superficiale. Dopodiché, con questa esperienza, siamo riusciti a capire un po' meglio ciò che effettivamente bisognava fare su Manfredonia. Io sono molto soddisfatta del risultato che abbiamo conseguito, perché appunto intanto siamo partiti poco tempo prima delle votazioni ufficiali, quindi per me è da ritenere un ottimo risultato. In più è un ottimo punto di partenza per riorganizzarci e fare in modo che il partito riesca a crescere sempre di più e a dare la sua massima disponibilità verso Manfredonia e tutti i manfredoniani.